E' andata bene, benissimo, ma lo si sapeva già, perché il JAR in questa stagione difficilmente ha steccato contro avversarie che stanno dietro in classifica. I dolori, semmai, sono arrivati spesso e malvolentieri durante, al termine dei tanti scontri diretti disputati. Contro l'Avola è stata una passeggiata, o quasi. Tre gol, parecchie giocate, sofferenza, praticamente nulla. Fin dal pronti via, i ragazzi di Beppe Mascara, che alla vigilia aveva chiarito bene la questione con i suoi dopo il doppio scivolone contro Città di Messina e Rosolini, hanno preso in mano il match, giocando con piglio e personalità al cospetto di un regionale decisamente più freddo e spoglio rispetto a un paio di settimane fa. Carbonaro, come spesso del resto, è una sentenza già alla mezz'ora scarsa del primo tempo. Santitto apparecchia per il centravanti giallo-blu, che di testa inchioda l'estremo difensore ospite al suo destino. 1-0 e match in discesa. Nella ripresa, Leotta sfrutta al meglio un assist in verticale di Petrullo. Dribbling secco sul portiere avversario e tanti saluti all'Avola, che di fatto si arrende alla superiorità netta, nettissima, del Giarre. Poco dopo ci pensa Patanè a mettere definitivamente in ghiaccio la partita. Capocciata e tris sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il gol di Mangiagli, che sorprende incatasciato all'alba del quarantesimo, è buono solo per le statistiche e non intacca certo la prestazione più che positiva dei ragazzi di Mascara, che mette a referto la vittoria personale numero 9. E adesso tutti a Scordia. Sì, è un incrocio diretto di quelli che tanto deprimono il Giarre. I tifosi aspettano il colpaccio per dare finalmente una sterzata vera alla stagione. Per andare a braccetto con le grandi, infatti, bisogna cominciare ad alzare l'asticella.